ciao a tutti finalmente è arrivato eccolo qui incredibile dopo tre anni di attesa andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta eccola qui finalmente tre anni di attesa come dicevo per avere il mio nuovo zx spectrum next e come dice la scritta sulla scatola non utilizzare alcun tipo di sharpener per aprirla e io che faccio utilizzo proprio il cutter quindi il ovviamente con molta delicatezza per non rovinare l'interno ma già so avendo visto anche altri video che gli sviluppatori hanno pensato anche alla mente bacata di chi apre queste scatole e ovviamente anche a bartolini che se le lancia e quindi all'interno è tutto iper protetto anche se utilizziamo un taglierino per aprirla infatti come vedremo sotto troviamo già un pezzo di cartone protettivo doppio quindi chiaramente abbiamo sia le ali della scatola sia un ulteriore strato di cartone per proteggere eventualmente i tagli apriamola per bene e togliamo il cartone come vediamo arriviamo all'interno della scatola che è super protetta da queste due bande laterali in gomma è una pratica che viene utilizzata moltissimo adesso per gli imballaggi ed è super efficace economica ed efficace perché è una schiuma protettiva veramente molto resistente ed estraiamo la scatola del next che comunque è bella pesantuccia siamo sui tre chili circa di materiale rimettiamo via la scatola e andiamocela a spulciare come un mazzo di carte da poker allora la scatola è più bassa rispetto al kickstarter 1 molto resistente come vediamo simile alcune piccole caratteristiche sono differenti come ad esempio il logo rosso sinclair e la scritta zx spectrum next lo vediamo in foto comparativa girando la scatola possiamo subito vedere il contenuto che è all'interno abbiamo appunto lo zx spectrum next la compatibilità totale con tutte le macchine e diciamo il racconto breve di come è stato sviluppato da zero fino a questo apparecchio è in grado di adattarsi a qualunque tv e qui troviamo all'interno i giochi che troviamo sulla sd card che facevano parte del kickstarter per gli stretch goals raggiunti abbiamo exploding fist bikers delta shadows tx wonderland il bellissimo è dove il che non vedo l'ora di giocare la next do che è la mia do di riferimento per lo spectrum next per poter comporre musica sul next e qui abbiamo le specifiche hardware di tutto rispetto processore fpga emulato z80 che arriva fino a 28 megahertz 2 megabyte di ram sistema operativo next os e compatibile con le sx dos delle sd card la grafica che è da 640 x 256 pixel con 512 colori il video output in hdmi e ovg a rgb lo storage ovviamente è la sd card l'audio è un turbo sound next con tre chip ai in questo modo possiamo arrivare fino a nove canali audio i due porte joystick anteriore una porta ps2 posteriore per attaccare il mouse e la tastiera estesa gli ingressi jack per la cassetta quindi il tape support però per utilizzare il vecchio registratore l'espansione che troviamo dietro alla scheda e che serve appunto per collegare tutte le interfacce le periferiche esterne mai create per il next il sistema hardware del wifi e il real time clock ma andiamo ad aprirla facciamo molta attenzione perché la plastica è termo impressa quindi con il nostro taglierino facciamo un micro solco sul bordo qui dove è l'ingresso del scatola e strappiamo la pellicola come vediamo questa è la versione accelerated che è ordinato dal kickstarter ed è quella completa anche del raspberry pi che troviamo all'interno per l'accelerazione grafica dello zx spectrum next come vediamo sulla scatola è riportato 2 megabyte mentre sulla scatola precedente è riportato un solo megabyte e eccoci qua come nel 1983 a distanza di 40 anni aprire nuovamente la scatola dello zx spectrum l'emozione è la stessa di quando ero ragazzino quindi adesso ho modo di mettere le mani finalmente su questa splendida nuova macchina farò poi un video sulla storia dello spectrum next perché è molto affascinante e sarò in compagnia di enrique olifier che l'ha promosso insieme a victor trucco durante le fasi sia del progetto sia della realizzazione l'interno della scatola in cartone molto resistente e possiede due sezioni questa volta in gomma molto più efficaci rispetto all'involucro in cartone che era presente nel primo kickstarter che si rompeva in maniera estremamente semplice ed eccolo qui il next tutto in suo splendore troviamo sopra questo è il foam intorno in schiuma molto resistente come dicevo effetto super protettivo per la macchina il fatto che il cartone precedente graffiasse anche la superficie della macchina quindi adesso hanno provveduto a questo qui troviamo un'altra scatola questa volta sempre in cartone molto simile a quelle a cui siamo abituati quando acquistiamo un cellulare quindi estremamente resistente ben stampata in rilievo sembra la scatola dell'iphone ben sigillata all'interno troviamo l'alimentatore serigrafato questa volta anche questo era uno stretch goal del kickstarter con lo switch di accensione anche esso serigrafato da un lato e dall'altro questo per poter avere tutto in line con il nostro alimentatore qui ci sono tutte le spine per le varie compatibilità nel mondo montiamo la nostra tiriamo fuori l'alimentatore in modo da appunto renderlo europeo per montarlo è molto molto semplice basta spingerlo dentro ed avvitarlo a baionetta come le vecchie macchine fotografiche come vediamo è semplicissimo poi c'è un pulsantino lì di lato che rilascia la spina qui troviamo le caratteristiche dell'alimentatore identico a quello dello spectrum standard la serigrafia bellissima sull'alimentatore e il connettore classico attenzione agli alimentatori che andiamo a collegare anche se non si rovina però la polarità va rispettata questo è lo switch che poi noi utilizzeremo per collegare il next infatti possiamo appunto inserirlo alla fine della catena e poter avere uno switch on off per accendere e spegnere il nostro next come vediamo dietro non è non appare la scritta sinclair come invece era stato preannunciato nel kickstarter ma abbiamo i tre diciamo lì il classico arcobaleno anche sul switcher all'interno anche in questo caso abbiamo un stampa in schiuma molto bella e resistente per alloggiare tutte le altre spine anche perché l'alimentatore è switching quindi è compatibile con tutte le alimentazioni questa è quella americana e poi abbiamo anche quella anglosassone appunto per il regno unito veramente ben realizzato questa volta chi ha disegnato e costruito la scatola ha fatto un capolavoro veramente non hanno badato a spese per questa parte diciamo del progetto prendiamo in mano il nostro next ed andiamo adesso ad analizzarlo da vicino il design è stato creato da rick dickinson quindi l'industrial design originale della sinclair come vediamo infatti rispecchia perfettamente lo stile di rick per questo che poi è effettivamente molto gradevole e bello al tatto e anche all'uso perché comunque è stato grazie bisogna dirlo grazie a rick sicuramente il kickstarter ha preso una piega più professionale e quindi anche il design della macchina è risultata più efficace quindi sicuramente il successo è dato anche dal design originale della macchina anche la parte sottostante è fatta molto molto bene qui abbiamo i piedini per sollevare la tastiera questo sistema ereditato dallo zx spectrum plus e poi dietro abbiamo anche il connettore eccolo qui coperto qui l'alimentatore ricordiamoci che il centro è positivo qui abbiamo il connettore che svela la porta io dove collegare tutte le schede del passato e del presente fatte per lo zx spectrum poi abbiamo l'uscita hdmi e l'ingresso e l'uscita stereo per il registratore a cassette e per l'uscita stereo dei chip e sopra abbiamo gli ingressi e uscite del raspberry pi queste servono per la parte di programmazione quindi non le useremo mai praticamente qui abbiamo dei pulsanti di reset il drive e l'nmi che ci permettono di lavorare velocemente con la sd card che si trova all'interno anch'essa serigrafata come vediamo che contiene il sistema operativo e i software relativi all'uso dello spectrum ovviamente il sistema poi è aggiornabile quindi possiamo tranquillamente aggiornarlo dal sito dello spec next ogni volta che appunto escono gli aggiornamenti anche del firmware di fronte abbiamo le porte joystick compatibili con tutti e tre i sistemi camston sinclair e protec selezionabili ovviamente via software come vediamo è veramente veramente splendido esteticamente è uno spettacolo ed è estremamente comodo i tasti ovviamente non sono più quelli a pulsante di una volta ma sono a farfalla moderni ma ovviamente ed utilizzano sempre una membrana sottostante all'interno della scatola troviamo poi il quick start guide che era assente nella nel primo kickstarter e che rappresenta le prime pagine del vecchio manuale però qui con sei pagine siamo in grado di accenderlo immediatamente ed iniziare subito a fare qualche cosa navigare nei menu e ovviamente iniziare anche a giocare immediatamente per chi desidera utilizzarlo come strumento puramente ludico un applauso ha fatto a furbes perché comunque è riuscito a scrivere un manuale estremamente semplice migliore rispetto a quello precedente insieme a simon goodwin tutti gli altri sono riusciti a fare un eccellente veramente eccellente lavoro di scrittura del manuale questa volta anche perché c'è stato molto tempo per metterci le mani come dicevo il kickstarter è durato un è durato tantissimo a causa di innumerevoli problemi che si sono presentati durante le fasi di kickstarting tra cui il più grave la mancanza assoluta dell'fpga che ha costretto ad un ridisegno totale di tutta la scheda madre e poi anche un altro successivo problema relativo allo stampo dei case che è stato poi spostato direttamente in una fabbrica cinese a discapito di quella antecedente ecco il manuale bellissimo grazie agli stretch goals sono riusciti a fare tutto a colori rispetto alla versione precedente quindi questo manuale è interamente a colori ed è stato riscritto da zero quindi non è il vecchio manuale dello spectrum next come vediamo docos phobus è riuscito in questa bellissima impresa ed è stato semplificato in maniera estrema quindi è facilissimo da riutilizzare imparare il basic è estremamente semplice e questa volta siamo in grado anche di scrivere i nostri programmi in maniera più rapida rispetto a prima ricordiamoci che il basic il next basic è molto più potente del basic standard della Sinclair e ci permette addirittura di muovere gli sprite e di iniziare a scrivere programmi e giochi complessi senza dover entrare nel linguaggio macchina qui abbiamo uno spaccato come vediamo è tutto interamente a colori il manuale è anche acquistabile adesso separatamente per chi ha il vecchio next quindi possiamo acquistarlo dal sito della wasp tutto plastificato come vediamo il design è lo stesso dei manuali Sinclair quindi abbiamo lo stesso anche la stessa anche grafica questo tipo di illustrazioni che accompagnavano il manuale della Sinclair su questo canale troveremo poi altri video riguardanti il next e verranno pubblicati dei nuovi articoli proprio in relazione a questa macchina perché la comunità sta crescendo tantissimo soprattutto quella dei nuovi programmatori e quindi non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lo ZX Spectrum Next anche in campo musicale quindi vedrete dei tutorial relativi alla composizione chiptune come viene chiamata oggi sia dello ZX Spectrum Next sia del Commodore 64 facciamo un'ultima comparazione con lo Spectrum Next primo kickstarter che è quello sotto come vediamo le macchine sono identiche ci sono delle micro differenze quasi inavvertibili oserei dire mettiamo le sovrapposte ma effettivamente è identica esteticamente alla stessa macchina all'interno le motherboard sono diverse perché è stato necessario cambiare completamente la FPGA a causa appunto di un problema di fornitura ma effettivamente anche le serigrafie tutto il resto è stato brillantemente rispettato micro correzioni nella plastica ma è perfettamente identico alla versione precedente anche i pulsanti ovviamente gli angoli e le porte joystick quindi non vi sono variazioni di sorta riferite appunto all'estetica alcuni hanno trovato dei case leggermente deformati ma questo diciamo è un avvenimento molto raro anche sotto come vediamo la profondità delle viti è leggermente diversa ma il resto è identico quindi abbiamo la stessa configurazione anche nello smontaggio della macchina poi vedremo un video magari dove le apro tutte e due per vedere le piccole differenze interne ma sostanzialmente sono identici vi ricordo l'uscita del mio nuovo libro commodore 64 versus zx spectrum reperibile sia su amazon su ibs e ebay lo trovate un po dappertutto anche nelle librerie e che racconta all'interno la storia della creazione dello zx spectrum next in compagnia di victor trucco che è colui che l'ha effettivamente creato questo e tanto altro ancora appunto nel mio nuovo libro commodore 64 versus zx spectrum per il momento è tutto ciao a presto